L'ispirazione della collezione è Radical Street. Questa è un po' una fusione anche dai ragazzi di oggi che stanno cambiando un po' tendenza su quello che riguarda anche l'impegno sociale. Per cui è un'ispirazione che ci riporta nella vita reale degli studenti universitari, di comunque chi si appassiona alla vita. Per questo il make-up sarà un make-up molto naturale, come la pelle di un ragazzo che troviamo in strada al mattino che sta andando all'università con il suo zainetto per andare a scuola oppure a lavorare. Abbiamo creato una base iperleggera e in questo caso però idratata, luminosa, cremosa. Non volevamo dare un effetto troppo opaco per far capire anche la freschezza che c'è in questi ragazzi, giusto per l'età e anche per l'idea e l'impegno che c'è per il sociale. Abbiamo utilizzato crema idratante ovviamente e poi face and body miscelato con natural radiance, che sapete che è la mia miscela magica, quello che amo sempre fare anche per la donna. In questo caso però l'abbiamo diluito anche con un pochino di crema idratante per renderlo ancora più leggero e regalare al viso, soprattutto nella parte esterna del viso, un effetto glowy, proprio dewy addirittura, proprio cremoso, idratato. Questo si ripete anche per le ragazze che però sul look iperpulito avranno in line-up l'aggiunta sulla palpebra mobile di un gloss, un gloss iridescente per creare proprio uno sguardo liquido, uno sguardo sensuale ma non provocante, di una persona che non è frivola ma una persona che invece è molto focalizzata in quello che accade intorno a noi oggi.